Il stato di agitazione i lavoratori impegnati nei servizi di manutenzione negli ospedali dell'Aquila e provincia. I sindacati Filcams e Will avevano chiesto infatti un incontro formale con la Olicar per sapere le intenzioni dell'azienda che, lo ricordiamo, si occupa della manutenzione degli ospedali circa la stabilizzazione dei lavoratori precari. Ad oggi la società, secondo i sindacati, non ha fornito delle risposte. Anzi, l'11 settembre ha provveduto a inviare via mail ai sindacati e alle RSA una comunicazione nella quale si dice che la Olicar ha problemi finanziari. Dunque, non sarebbe in grado neanche di pagare ai lavoratori lo stipendio di agosto 2015 potendo dare solo un acconto di 350 euro, non garantendo neanche il saldo a fine mese. La società, secondo i sindacati, ha evitato il confronto, mettendo però in grave disagio chi lavora. I sindacati ricordano che molti lavoratori a spese proprie devono ogni giorno raggiungere la sede di lavoro dall'Aquila ad Avezzano, Sulmona a Castel di Sangro, da Avezzana a Sulmona e viceversa, qualcuno anche da Teramo. Per queste ragioni i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione aprendo una procedura formale di raffreddamento e chiedendo una convocazione alla prefettura dell'Aquila. I sindacati chiedono che sia garantito innanzitutto il pagamento degli stipendi entro le date consentite non oltre il 15 ottobre. Vanno date poi precise indicazioni ai dipendenti circa la stabilizzazione dei precari. Se ciò non dovesse avvenire, Will e Filcamps annunciano dure forme di protesta ma ovviamente questo porterà, annunciano, a ripercussioni sui servizi offerti agli utenti del nosocomio aquilano e non solo.